Ciao a tutti! Siamo sulla barca in Costiera Amalfitana e la nostra prossima destinazione è Positano! Siamo infatti partiti da Sorrento per raggiungere Positano in un bellissimo viaggio panoramico che costeggia la costiera! Hi! Siamo sulla barca in Amalfitana e la nostra prossima destinazione è Positano! Siamo arrivati a Sorrento per raggiungere Positano su una bellissima viaggio panoramica che riuscita a lungo la costa! Siamo infatti già intravedendo Positano ma man mano che ci avviciniamo possiamo ammirare sempre meglio questa magnifica località della costiera Amalfitana! Abbiamo già trovato un glimbo di Positano ma possiamo ammirare questa bellissima costa Amalfitana più migliore e più migliore! Possiamo ora vedere sulla sinistra la spiaggia di Fornillo ed il centro di Positano con la spiaggia grande sulla destra. Possiamo ora vedere la spiaggia di Fornillo sulla destra e il centro di Positano con la spiaggia grande sulla destra. Ma come raggiungere la spiaggia di Fornillo a piedi dalla spiaggia grande di Positano? Guarda il video qui proposto per scoprirlo. Come raggiungere la spiaggia di Positano con la spiaggia grande sulla spiaggia grande? Per ottenere la risposta, guarda il video suggerito! Siamo ora arrivati alla nostra stupenda destinazione, quindi metti un bel like e seguici così ci vediamo nel prossimo video, ciao! Ciao! Siamo ora arrivati alla nostra bellissima destinazione, Positano! Scusate, like e subscribe! Ciao! 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 Ciao!